Devo dire che sicuramente sarebbe una spinta importante per il ciclismo, anche se oggi il ciclismo è più estero che italiano, però io credo che potrebbe essere molto importante. I grandi campioni del ciclismo toscano, compreso anche il neo-CT della nazionale Daniele Bennati, in Sala dei Grandi nel palazzo della provincia di Arezzo per sostenere la candidatura di questo territorio per quello che riguarda la realizzazione di un velodromo. Sarebbe una grande opportunità non solo per il ciclismo toscano, per tutto quello che concerne il movimento, ma per tutto il centro-sud, perché comunque sappiamo benissimo che di velodromi in Italia ce n'è soltanto uno coperto, stiamo parlando di velodromi coperti e quindi sarebbe davvero l'infa vitale per tante società, per tanti ragazzini che si vogliono approcciare alle due ruote. Siamo candidati con questo progetto, proprio a seguito delle dichiarazioni del Presidente della regione toscana, che tra le grandi opere Pegaso prevede la realizzazione di un velodromo all'interno della nostra regione. L'area individuata è un'area molto facile dal punto di vista dell'accesso, quindi si parla di zona di Montevarchi Nord, che è facilmente raggiungibile grazie alla vicinanza del casello autostradale, perché si parla di un progetto importante, 41.000 metri quadri, 12.000 coperti, una struttura polifunzionale che prevede anche l'opportunità di svolgere all'interno molti altri sport, molte altre attività, anche concerti, fiere, eventi. Per allenarsi d'inverno è un posto al chiuso, quando il tempo è brutto possono comunque sia allenarsi là, non ci sono macchine, non c'è niente, e poi riuscire a organizzare anche qualcosa di importante come gare sarebbe una cosa veramente entusiasmante. Credo che sia una cosa estremamente importante, definirei determinante per un recupero, a mio avviso, di questo sport, soprattutto su questa terra, in qualche modo insegnando un po' la storia del ciclismo, sapendo chi è passato su queste strade, i campioni toscani del passato che hanno fatto la storia di questo sport, e per cui una lenta ripartenza e soprattutto uno spazio dedicato ai più piccoli.